I due tornei consecutivi vinti a Washington, ed a Montreal costano cari ad Alexander Zverevino Il giovane tedesco è arrivato nel Midwest chiaramente a corto di gambe e fiato, già dopo un'ora e venti era vistosamente affaticato, e si piegava per recuperare ossigeno alla fine degli scambi, ed è uscito al suo primo impegno contro il classe 98 Frances Tiafoe, che prima di questo torneo aveva un record di sole 5 vittorie nel circuito ATP in 29 partite e giocate